Romain! Romain, figlio mio! Romain, c'è un pacco per te! Nessun figlio ha mai odiato sua madre quanto me in quel momento. Diventerai generale! Ambasciatore di Francia! Scrittore! Cavaliere della legione d'onore! Tutto quello che sono lo devo a quelle risate. Decisi che avrei soddisfatto ogni suo desiderio. No, 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 il pittore no. Van Gogh si è suicidato a 35 anni. Voglio che tu sia famoso da vivo. Così ci rassegniamo alla letteratura. Ci sono tre ragioni per cui vale la pena combattere. Le donne, l'onore e la Francia. Sarai il nuovo Victor Hugo. Romain, che si accade? Quando ti deciderai a lasciarmi in pace e a pensare alla tua vita? L'idea che mia madre potesse morire prima che avessi realizzato i suoi desideri era inaccettabile. Dovevo diventare un genio della letteratura francese e scrivere un capolavoro immortale. Giurai che avrei dato un senso ai suoi sacrifici e che sarei stato digno di lei. Sarebbe stato questo lo scopo della mia vita. Non scrivi una riga da mesi. Non posso farlo. C'è una guerra in atto. Non posso fare quello che mi hai chiesto. Lo capisci? Sono malato. E allora ho promesso a tutti che avresti salvato la Francia. Combatterai fino alla vittoria. E ti proibisco di morire. Riprendi quota! Riprendi quota! A nessuno dovrebbe essere concesso di amare qualcuno così tanto. Neanche la propria madre. Riprendi quota!